Mi sembra che in base alla regola dei due mandati direi di no. Questi sono gli a margine. No, io direi che la regola è chiara e ce la siamo data. Mi sembra chiaro. Questo ne parleremo in maggioranza. Abbiamo una maggioranza in città metropolitana che dovrà essere coinvolta. Ma queste sono le regole che ci siamo dati. Di solito in un mandato si riesce a fare poco da sindaca. Di solito se ne servono due per portare... Tanto io direi che arrivare viva alla fine di questo mandato sarà un grandissimo successo.